14 gennaio 2012 alassio cosa si fa per la sudana il sacrificio di un'immersione val bene questo sugo direi e cosa abbiamo dentro il sugo Andrea? a parte i capperi le olive e i pinoli abbiamo secchi, gamberetti e il tonno che dobbiamo ancora mettere, il tonno deve essere esclusivamente fresco signori, buone immersioni e soprattutto buone post-immersioni grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti